ciao a tutti e bentornati sul canale eccoci con la recensione del mercoledì e oggi torniamo a parlare di doctor who perché come potete vedere oggi guarderemo insieme il dodicesimo dottore dopo aver visto infatti hip hop di ten e eleven era ormai giunta ora di passare anche a capaldi e rispetto alle altre recensioni ho recuperato praticamente tutte le stagioni perché sto guardando adesso l'ultima con il dodicesimo cominciamo quindi dalla scatola dove vediamo che fa parte della serie television qui in mezzo c'è chiaramente il logo di doctor who ed è il numero 219 sul lato troviamo come per gli altri lo sfondo quello molto molto semplice sui toni del giallo e l'arancione e ovviamente troviamo anche l'artwork per intero dove già possiamo vedere qualche elemento caratteristico di questo personaggio il retro non ci dice niente di nuovo se non che gli altri personaggi di questa serie che è la prima sono il 20 anni quarto dottore dalek un cyberman adiposa un whipping angel e tardis che abbiamo già visto insieme procediamo con l'unboxing e guardiamo il dodicesimo dottore da vicino ecco qui il nostro mini capaldi fuori dalla scatola e direi che possiamo cominciare come sempre dai capelli dove troviamo la scultura che a mio avviso forse è anche troppo ordinata per quello che in realtà abbiamo visto sul schermo però è fatta molto bene scendendo sul viso l'unico particolare che troviamo sono le sopracciglia molto spesse e questo ci sta perché è così però in realtà mancano i segni sotto gli occhi che avevamo visto nell'artwork e questo forse aiuterebbe a rendere l'idea che in realtà questo dottore è un po avanti con l'età almeno fisicamente e questo effettivamente non traspare molto dal viso scendendo nella parte inferiore invece troviamo i suoi vestiti iconici quindi abbiamo la camicia bianca la sua fantastica giacca blu con l'interno rosso che come abbiamo visto durante diverse puntate è allacciata con un solo bottone quindi i risvolti si alzano spesso ed è stupenda in più sotto intravediamo anche un altro maglione per quanto riguarda la mano destra tiene il cacciavite sonico chiaramente ma non è ancora quello nuovo perché questo ormai è uscito da un po mentre nella mano sinistra troviamo che gli è stato fatto anche l'anello per il resto indossa pantaloni grigi e scarpe nere ma sono belle lucide e scolpite veramente molto molto bene per quanto riguarda il retro invece troviamo il resto dei capelli che comunque sono fatti abbastanza bene e il resto dei vestiti quindi i dettagli della giacca e possiamo notare anche da dietro quanto siano belle lucide queste scarpe quindi ragazzi questo è il pop del dodicesimo dottore e quindi del nostro caro e amato capalli il pop è molto carino e l'unica cosa che però mi dispiace è che effettivamente il viso non renda così tanto la somiglianza con l'attore ad ogni modo il resto secondo me è fatto bene e rappresenta alla grande il nostro dottore e chiaramente in una collezione dei pop di dottorù non può assolutamente mancare io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo domenica con il prossimo pop ciao